Buonasera, manlio mezzatesta, Rai, mi chiede complimenti per l'ottima prestazione. Volevo chiedere che effetto fa, intanto ricevere i complimenti dal tecnico del Palermo, come ho visto adesso, che effetto fa sentirsi, anche se siamo agli inizi, in testa della classifica a marcatore. Buonasera a tutti, mi fa molto piacere, perché siamo un stimolo mister e adesso dobbiamo solo pensare a continuare così, andare avanti, senza guadagnare così. Una serata da incorniciare per l'Aspoli, per te, terzo tre gol questa sera, quarto gol in campionato, ti aspettavi un avvio di stagione per te così sfavillante? No, sinceramente no, perché sono qui da poco, però ho deputato al gruppo che mi ha accorto bene e mi serve un'altra fiducia e sto cercando di impagare. Il mister l'aveva detto, il Palermo era una squadra temibile, infatti è stata una partita molto combattuta da ambo le parti, poi aveva detto comunque vincerà sicuramente il migliore tra due formazioni veramente storiche di questo campionato. Sì, loro era una squadra veramente forte, mi portivano davanti, erano giocatori che già conoscevo e noi dovevamo solo tenere botta e cercare di portare a casa il risultato. Una dedica per i gol? Sempre alla mia famiglia, ai tifosi. Grazie.